buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti ai vostri video del mese prima di cominciare voglio dirvi giusto due paroline per mettere in chiaro con voi alcune cose ci tengo veramente tanto a mettere in chiaro questo mi arrivano ogni tanto delle email alle quali sinceramente io non so nemmeno se vale la pena rispondere ovvero mi è arrivata una email un paio di giorni fa con scritto aiutami a quel punto ho inviato la solita email di risposta che invio a tutti quelli che mi chiedono una lettura con i dati con le informazioni con le opzioni a disposizione e a questa mia email è stato risposto voglio una lettura di tarocchi ecco ragazzi non è ovviamente nella prima nell'ultima volta che qualcuno scrive in questo modo ma vorrei farvi notare non a tutti voi ovviamente ma a quelli che hanno la tendenza a scrivere in questo modo che c'è qualcosa che non va o meglio ci sono parecchie cose che non vanno mi arrivano a volte mi arrivano email dove scrivono mi chiamo laura nata il 30 gennaio dell'84 vorrei sapere come andrà a finire con marco nato il 25 febbraio del 79 punto allora io a questo punto a questo punto sento veramente la necessità di chiarire un paio di cose punto primo un minimo di educazione quando si scrive un email quando si parla con una persona chiunque sia questa persona si scrive ciao buongiorno buonasera e si termina firmando scrivendo il proprio nome quindi un aiutami un voglio una lettura diciamo che non è esattamente l'approccio migliore soprattutto se vi state approcciando ad un professionista di qualunque tipo sia a questo punto mi viene in mente che forse quando voi scrivete a un tarologo a un cartomante pensate che non sia un professionista beh ecco in alcuni casi magari avete anche ragione perché il mondo è pieno di ciarlatani però ci sono anche tanti di noi che non voglio dire sono laureati perché mi sembra stupido star qui a dire che io ho una laurea e due master e parlo tre lingue non è questo lo scopo del video ma ciò che voglio dire che al di là del titolo di studio al di là di chiunque ci sia dall'altra parte si tratta pur sempre di persone di esseri umani in quanto tali vanno rispettati quindi se voi non siete in grado di rispettare un altro essere umano probabilmente significa che non avete nemmeno tanto rispetto per voi stessi e in questo caso vi invito a a lavorare su questo perché vi fa male fa male prima di tutto a voi e poi a tutti quelli che vi circondano altra cosa cosa vi fa credere che io sia qui a disposizione di chiunque voglia una lettura gratuita perché mi sembra ovvio che nel momento in cui mi scrivete i vostri dati nome e cognome non scrivete tra l'altro nemmeno grazie ciao e buongiorno mi state chiedendo una lettura gratuita ecco cosa vi fa pensare che io stia qui a fare letture gratuite o meglio per quale motivo dovrei farlo c'è sicuramente gente che lo fa ci sono tantissime persone in questo settore che lo fanno ma non capite che lo fanno perché poi vogliono vendervi qualcos'altro dopo inoltre le mie letture non sono nemmeno economiche io non faccio letture a 10 20 euro assolutamente i miei clienti lo sanno le mie letture sono care sì sono care probabilmente io sono una delle persone più pagate in questo settore perché so quello che faccio perché do valore al mio lavoro e perché volendo anziché far questo potrei starmene in giro a fare la biologa altra cosa ragazzi e lo dico per voi non per me perché in fondo a me non costa nulla rispondere a un'email o non rispondere affatto ma non elemosinate cioè nel momento in cui chiedete una lettura gratuita o chiedete una lettura conoscitiva perché adesso si usa così le letture gratuite si chiamano conoscitive ecco se volete conoscermi io mi faccio pagare mi dispiace tutto quello che di gratuito io vi offro e su questo canale lo trovate gratuitamente online ogni mese e spero che vi faccia piacere perché oltre a servirmi per fare marketing serve anche per dare materiale gratuito a chi ne ha bisogno ma ecco nel momento in cui rispondo che non faccio letture gratuite perché insistete perché pregate non vi rendete conto che siete voi che state creando la realtà che vi circonda e che se fate le vittime se vivete in questo modo se vivete emanando vibrazioni e frequenze di vittimismo di povertà non farete altro nella vita che attrarre eventi che vi porteranno sempre ad essere delle vittime sempre ad essere in una condizione di povertà quello che io faccio il mio lavoro principale la mia principale professione e il life coaching ovvero io insegno alle persone a prendersi la responsabilità delle proprie vite qualunque cosa accada nella vostra vita se non accade per una questione karmica sta accadendo perché voi la state creando nel momento in cui voi state creando la vostra realtà che sia una cosa karmica o meno voi avete il potere per cambiare quella realtà ed è quello che io insegno alle persone ed è per questo che io mi faccio pagare mi faccio pagare anche bene ed è per questo che una sessione con me costa e costa tanto perché io aiuto le persone a migliorare la propria vita non sto qui a dire che cosa succederà fra un mese fra un anno fra dieci anni io sto qui per migliorarvi la vostra vita e per darvi degli strumenti che siano realmente utili quindi se non credete di avere questo potere di migliorare la vostra vita se preferite fare le vittime di problematiche di qualunque tipo allora vi dico non guardate questo canale perché se non credete a quello che dico non ha senso guardare questo canale quindi ragazzi per favore fatelo per voi non per me a me non cambia nulla fatelo per voi prendete la vostra vita nelle vostre mani smettetela di fare i vittimisti smettetela di elemosinare perché così come elemosinate una lettura elemosinerete anche l'affetto e l'amore dalle persone che vi circondano e non è questo il modo in cui lo avrete dunque ragazzi ci tenevo a fare questa introduzione per spiegare come mai da questo momento in poi smetterò ed eviterò di rispondere a determinate email per lo meno a quelle dove manca un ciao credo che questo sia il minimo per lo meno mi aspetto la buona educazione per il resto io vi saluto auguro a tutti una splendida giornata e vi lascio alle vostre letture del mese buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti a questa lettura per i single del segno dei pesci valida per la seconda metà del mese di settembre è una lettura generica quindi se non risuona con tutti potete guardare le letture del vostro ascendente o della vostra luna se volete invece una lettura privata o volete informazioni sui corsi di tarologia sull'analisi karmica o il life coaching inviate una email a voci dagli angeli chiocciola gmail.com ma andiamo avanti e cominciamo subito analizzando l'energia della persona alla quale voi siete interessati o che è interessata a voi in questa parte del mese dunque sembra che in generale come energia generale ci sia una regina di coppe e anche un forte senso di rinascita dunque questa persona non solo prova dei sentimenti per voi non solo è tra virgolette innamorata ovviamente l'entità di questi sentimenti dipenderà da caso a caso quindi per qualcuno di voi può parlarsi di amore per qualcun altro può parlarsi di un'infatuazione o di affetto di vario tipo ma comunque ci sono di base dei sentimenti e sembra che questi sentimenti predominino su tutto il resto quindi ecco il cuore di questa persona è sicuramente pieno di affetto che vorrebbe dare a voi allo stesso tempo questa persona sta attraversando una fase di rinascita vera e propria sta riscoprendo se stessa una parte di sé sta ricreando anche il proprio modo di pensare e di vedere e il proprio modo di percepirsi di auto percepirsi quindi è davvero una fase trasformativa e di rinascita ma andiamo più nello specifico cosa teme questa persona il sei di bastoni cosa spera il re di bastoni rovesciato questa persona potrebbe aver commesso degli errori e proprio per via di questi errori teme che voi abbiate l'energia per andare avanti e per dimenticare o per andare avanti e cambiare vita teme che voi siate troppo forti in questo momento per rendervi conto di quanto questa persona tiene a voi e che quindi vi sentiate liberi di andare avanti o di tornare indietro direi anche per qualcuno di voi perché qualcuno in realtà qualcuno se va avanti ecco per qualcuno di voi cerco di essere chiara per qualcuno di voi se questa persona va avanti in realtà è probabile che torni indietro da qualcun altro da qualcun altro del proprio passato mentre invece per altri di voi si tratta semplicemente di un andare avanti nella vita e cercare di meglio perché la speranza di questa persona è che voi invece non abbiate la forza per farlo che voi rimaniate comunque all'interno di questo tra virgolette guscio che si è creato in qualche modo e che voi magari piuttosto che andare avanti vi chiudiate in voi stessi per comprendere cosa volete e per rianalizzare e rielaborare la situazione e magari per darvi una seconda opportunità anche perché questa persona sta davvero facendo molta autoanalisi secondo me dunque spera che queste sue trasformazioni possano davvero essere utili per migliorare la condizione nel futuro nasconde un quattro di coppe agisce come la giustizia eh, nasconde un quattro di coppe ovvero nasconde il fatto che desidera con voi la relazione nasconde il fatto che vi guarda anche se da lontano vi guarda e pensa a voi come il partner ideale per costruire qualcosa insieme e per avere un qualcosa di stabile insieme perché vi sta anche guardando con una certa ammirazione adesso eh, vi sta guardando con un senso di anche idealizzazione probabilmente allo stesso tempo sta anche facendo i conti con le proprie azioni e non è sempre facile fare i conti con le proprie azioni perché si sta rendendo conto che le circostanze esterne sono la causa e la conseguenza di alcuni errori che ha fatto e per qualcuno di voi vedo anche altre persone coinvolte altri uomini o altre donne ecco, vedo comunque qualcun altro coinvolto e vedo sguardi o gelosie ma questo è solo per una parte di voi cosa dicono gli angeli abbiamo qui per voi l'arcangelo Kamaele che vi dice ah, ok che vi fa riflettere sulle diverse sulle diverse sulle diverse prospettive e vi fa notare che c'è un modo migliore per agire c'è un modo migliore per gestire tutto e che forse una pausa di riflessione potrebbe davvero essere utile e che addirittura questa è la parte che preferisco dovete osare di essere diversi da come siete stati finora questo mi piace come consiglio perché si tratta sia di cambiare prospettiva di guardare le cose in modo diverso cosa nella quale forse voi adesso non riuscite molto bene ma soprattutto si tratta di prendervi una pausa riflettere senza avere fretta aspettare di comprendere o di vedere le cose davvero in modo diverso e di osare di essere diversi come se qualcosa fino ad oggi vi abbia un po' trattenuti nel manifestare delle parti di voi nel nell'avere il coraggio di fare quei cambiamenti che in realtà voi stessi sapete che vanno fatti e forse avete anche avete anche negato l'evidenza a volte di questa necessità ad ogni modo per avere una lettura privata potete inviare un'e-mail a voci dagliangeli chiocciola gmail.com altrimenti ci vediamo alla prossima